A baracci per Ursula von der Leyen, neueletta presidente della Commissione europea. Si congratula con lei anche la sua premier Angela Merkel, cheppure all'inizio aveva formalmente sostenuto un altro candidato. Oggi l'Europa ha il suo volto, scrive il presidente francese Macron su Twitter, quello dell'impegno, dell'ambizione e del progresso. Non può dare il Parlamento per scontato, abbiamo grandi aspettative, vogliamo fatti, non solo parole, penso che l'avrà capito. Non le abbiamo regalato il nostro voto, abbiamo discusso con lei e chiesto alcune condizioni e saremo molto vigili sul raggiungimento di questi obiettivi. Auguri per il nuovo lavoro anche dal presidente del Consiglio Conte, che assicura il sostegno dell'Italia, anche se uno dei due partiti al governo, la Lega di Salvini, non l'ha votata.